Buon pomeriggio a tutti, mi presento, mi chiamo Samuele Regenzi, Sam per gli amici e quest'oggi vi parlerò di un argomento piuttosto particolare nel senso che si parla di sentimenti e programmazione computer che sono di solito due argomenti contrastanti. In realtà esiste una branca dell'analisi del testo che è appunto l'analisi del linguaggio naturale, il Natural Language Processing in inglese. Un ulteriore filone di questa branca dello studio dell'elaborazione dei testi è quella che si occupa appunto di estrarre il cosiddetto sentiment o sentimento dal testo. Cosa voglio dire? Si tratta di analizzare un testo arbitrario e connotarlo positivamente o negativamente. Che cosa voleva dire l'autore di questo testo? Voleva esprimere un concetto positivo o un concetto negativo? A che cosa serve nella pratica questo genere di tecniche? oltre al di fuori dell'accademia e del puro studio teorico. In realtà serve moltissimo. È una branca dell'analisi computazionale che è molto spinta dalle aziende in questo periodo. Perché? Perché produciamo una grandissima quantità di testo tramite le testate online e soprattutto tramite i social media, social network. E le aziende sono interessatissime a sapere se siamo contenti o siamo scontenti. Perché a seconda di cosa esprimiamo, soprattutto rispetto a dei prodotti o a delle situazioni, loro possono offrirci soluzioni o altri prodotti. Ok? Quindi è un... dove il marketing aggressivo e la computazione si incontrano e di solito ci sono dei soldi per noi smanettoni per creare qualcosa di interessante. Quindi è una branca che ho voluto esplorare. Ahimè, qui abbiamo a che fare con due contrasti. Nel senso che da un lato negli ultimi anni le tecniche di natural language processing e specificatamente di sentiment analysis sono molto progredite. Sono più progredite negli ultimi due o tre anni che probabilmente nell'ultimo decennio. Ahimè, sono peggiorate proporzionalmente le performance. Ok? Cioè, riusciamo ad avere un'analisi del testo molto precisa ma con delle performance che sono via via degradate. E uno dice, vabbè, ho computer sempre più potenti però le due leggi non vanno di pari passo. Quindi abbiamo da una parte sempre maggiore lentezza degli algoritmi a fronte di un aumento della precisione ma sempre una maggiore dell'altezza. L'altro, produciamo sempre più dati, sempre più velocemente, sempre più post sui social network, sempre più articoli online, eccetera, eccetera. Quindi sempre più dati da analizzare. Allora, la risposta è stata, beh, utilizziamo il machine learning che, al di là di essere un argomento anche questo, anche questo è estremamente di moda, può con le performance di cui è capace essere utilizzato per analizzare il sentimento di testi e quindi di post sui social network, eccetera. Quindi, come mettere d'accordo le due cose? Perché, allora, faccio due domande giusto per tarare la complessità, diciamo così, della specificità della terminologia. Quanti hanno comunque presente di che cosa si tratta quando parliamo di machine learning in generale? Quindi si dì benissimo. Quindi se dico che un modello deve essere allenato, non si sconvolge nessuno, che un modello analizza delle classi, delle feature, meno? Ok, va benissimo. Quindi, come faccio a mettere d'accordo una parte algoritmica molto, molto specifica e una parte invece molto, molto generica, come sono gli algoritmi di machine learning, che sostanzialmente approcciano tutti i problemi come se fossero un problema generico e si basano sulla soluzione, per trovare la soluzione, su quanto fitta il modello rispetto alla domanda che gli poniamo. Beh, semplicemente utilizzando l'approccio tradizionale, se si può chiamare tradizionale in una roba che ha tre anni, un approccio tradizionale per allenare il modello. Dopodiché avremo un modello molto veloce che in maniera euristica riesce a determinare qual è il sentiment del testo che gli sottoponiamo. Per capire questo dobbiamo vedere un attimo come funziona un modello di analisi del linguaggio naturale. Praticamente questi algoritmi funzionano destrutturando il testo, prendono il testo, lo destrutturano nelle loro parti fondamentali, quindi nomi, verbi, aggettivi, pronomi, e poi li taggano con, esattamente come voi taggereste diciamo una release piuttosto che un post su Twitter, che gli appiccicano delle etichette, e soprattutto mantengono un grafo o un albero della struttura originale della frase. Questa struttura dati, ok, piuttosto complessa, viene data poi in pasto a una cosa che si chiama classificatore, non tanto differente dal classificatore del machine learning. Questo classificatore però è un algoritmo molto preciso, che analizzerà le label, le etichette che trova dentro la struttura dati, e ci darà la risposta per cui è stato pensato. Quindi se è un classificatore della sentiment, allora avrò il mio risultato sul fatto che il testo esprime un concetto positivo o negativo. A questo punto mi sono detto, quindi, Natural Language Processing è lento, proviamo ad applicare un modello di machine learning. Userò il Natural Language Processing per allenare il modello, e dove trovo i dati per allenare il modello? Perché il machine learning funziona bene soltanto se ha una certa quantità di dati sul quale far girare il classificatore, ho in mente di usare un approccio supervisionato, quindi fornisco al modello una serie di dati che so essere giusti, il modello fa una taratura, e dopodiché può lavorare in maniera predittiva. Ho utilizzato i dati dei social network, perché erano la cosa che ci interessava analizzare sin dal principio. Allora mi sono detto, va bene, i social network posso utilizzare, Twitter, ci sono un sacco di lavori in giro sull'analisi del machine learning, degli stream di Twitter, più che altro perché è uno dei più prolifici, vengono creati un sacco di dati, si possono consumare streaming, però c'è un problema. Su Twitter, essendoci fino a poco tempo fa il limite di pochi caratteri, si compiono degli atti criminali verso la grammatica, che ovviamente ha un analizzatore sintattico che è abituato a prendere in pasto tratti di libri o di commedie o cose del genere, il pettine, diciamo così, non avrebbe saputo cosa far passare in una capigliatura così scapigliata. E allora ho detto, va bene, Twitter niente. Allora Facebook? No, non dava bene neanche Facebook, perché prima di tutto avrei potuto contare soltanto sulla mia ristretta cerchia di amici, anche perché non rende pubblico tutti i dati. Sto chiacchierando troppo decisamente. E poi? Ok, allora cercherò di scrivere qualcosa ogni tanto. No, ho quasi finito la parte di chiacchiera. Allora Facebook no, perché comunque i dati che potevo reperire sarebbero stati troppo pochi. e allora mi sono buttato su Reddit. Più o meno Reddit, dovremmo sapere tutti cos'è, la homepage di internet, un social network fatto, strutturato tipo forum. Quindi il vantaggio di usare, diciamo così, questa sorgente dati è che c'erano vari argomenti. quindi non era polarizzato su, al contrario di tanti forum, politica, economia, finanza, gaming, dove praticamente anche il sentiment può essere polarizzato. Nei forum politici ovviamente sono tutti incavolati, nei forum di gaming sono tutti contenti e esaltati. Invece prendendo i dati da Reddit avevamo la possibilità di avere varie, varie sentimenti. Grazie a un utente, tal Strack in the Matrix, che ha fatto questa opera, usando le API di Reddit, di scaricare, iniziamo a vedere che cosa ci ha messo a disposizione il nostro amico Strack in the Matrix. Vedete che il file soltanto del 2000, prima tranche del 2017, quindi sono i primi sei mesi del 2017, se non ricordo male, sono 42 giga. È un file di testo, e che cosa c'è dentro? Allora, il file è in questo formato. In pratica, ogni riga è un elemento JSON, un oggetto JSON. Questo vuol dire che ogni riga è un elemento JSON, non il file è in formato JSON. quindi un parser JSON generico, non sarebbe andato bene. Il mio scopo, era quello di arrivare, ad avere un file, per poter allenare il modello, così strutturato. Beh, sicuramente il testo, quindi il body di questo posto. Vedete, adesso non è forse chiarissimo, però questo è abbastanza semplice. Sicuramente l'autore e il subreddit, perché? Perché sono informazioni che probabilmente, magari non mi servono immediatamente, però avrei sospettato che potessero essermi utili in seguito. Quindi se si hanno dei dati, è sempre meglio portarseli dietro, è la prima regola del machine learning. E poi, al quale aggiungere, la polarità, quindi la valutazione del sentimento, espressa dal testo del messaggio. Si parla di polarità, quindi se è polarizzato verso la parte negativa, lo flaggerò come negativo. Se è polarizzato verso la parte positiva, lo flaggerò come positivo. Ok, quindi, ho creato un'applicazione in scala, ho definito la mia struttura dati, un Reddit item, che mi descrive fondamentalmente la struttura dati che voglio andare a leggere dal file. Quindi, come ho detto, body, del post, subreddit a cui appartiene, e autore. Allora, per leggerlo, scusate, per leggerlo, semplicemente, uso la modalità standard di fare IO sotto scala, che è l'oggetto source, from file. a primo disclaimer, mi sono già preparato le parti di codice molto noiose da scrivere per nulla interessanti, in alcune altre classi di utilità. ok, li vediamo velocemente, ma è proprio, robe poche interessanti, di tipo escaping, eccetera, eccetera. l'oggetto conf, è in realtà un oggetto che va a leggermi un file di configurazione, un file fatto a chiave valore, semplicissimo, niente di particolare, quindi conf, punto get string, quindi dammi la stringa che ha per chiave sentiment file. ok, quindi, questo significa, leggi il file che trovi in conf, sotto sentiment file. A questo punto voglio leggerlo riga per riga, ricordate che il file su ogni riga contiene una stringa JSON, dopodiché devo trasformare questa stringa JSON, stringa, ok, nel mio oggetto RedditItem, che avete qua sopra. Allora, tramite una libreria molto comoda, che si chiama Circe, ma non sono un particolare amante del talk dove si parla troppo di librerie, e quindi andrò un po' veloce, prendetela un po' come magia nera. Gli dirò che voglio decodificare un RedditItem dalla stringa. Ok? A questo punto, grazie alla mappa, ho una collezione di RedditItem, che voglio trasformare ovviamente nel mio training data. Quindi, cosa assomiglia di più a una, riga di un file CSV, diciamo, rispetto al RedditItem? Beh, dovrò di nuovo mapparla, diciamo il mio item, oh, aspetta un attimo, mezzo passo indietro, un'altra cosa, una cosa fondamentale di quando si trovano dati sul quale bisogna fare inferenze. Prima di tutto, trovarli di buona qualità. In secondo luogo, dare per scontato che ci saranno delle sporcature, qualcosa che non è possibile ricondurre al modello che avevamo in mente. Qua e là, sparso. Il fatto poi che ce ne sia molte, che è la terza qualità, ci permette di buttare via tutti gli scarti. Quindi, nella mia processo di decodifica da stringa a struttura dati, RedditItem, molto può andare storto. E infatti, nella libreria, non mi restituisce direttamente il RedditItem, ma lo proxa in un oggettino, che dice, guarda, questa conversione è andata bene, questa conversione è andata male. Noi siamo interessati soltanto alle conversioni andate bene, e butteremo via tutte le altre. Quindi dobbiamo trasformare e filtrare insieme. Questa cosa si fa con il metodo collect, che è una funzione di ordine superiore, che vuol dire una funzione che prende un'altra funzione come parametro. E in questo caso siamo interessati soltanto ai casi dove è andato tutto bene, ok? The item is right. E vogliamo estrarre l'oggetto item dal suo contenitore. Dopodiché, come dicevo, lo dobbiamo mappare su una struttura dati che ci faccia comodo. Per esempio, una lista di valori, la cosa più semplice che si possa immaginare. Quindi, avrò il mio item author, subreddit, ok? Il mio item author, il mio item body, e ora, pezzo forte, calcoliamo la polarità, il sentimento, espresso da questo item. Quindi, sentiment, punto, compute sentiment, item body. cosa vuol dire? Passo al metodo compute sentiment, il corpo del post. Che cosa fa compute sentiment? Questa è una delle parti noiose che si vede, o devo mettere più grande? tanto non si capisce lo stesso. No, perché l'ho lasciato così? Perché la libreria che ho usato, che è una libreria realizzata dal dipartimento di scienze, di elaborazione del linguaggio di Stanford, diciamo così, non espone delle API elegantissime. Ecco, mettiamola in questo video. Io ho peggiorato il tutto adattandole da Java a scala, ok? E quindi, vorrei con voi soltanto vedere rapidamente quali sono gli elementi costituenti e ritrovare quello che vi avevo detto all'inizio. Giusto? Allora, il fulcro di tutto è la pipeline, quindi il percorso che facciamo fare al nostro testo dalla lettura al risultato. Come vi ho detto ha degli annotators che taggano le varie parti. Gli annotators che abbiamo usato in questo caso sono quello che tokenizza, che capisce dove finiscono le varie parti del discorso. Importante il POS, part of speech, cioè quindi che riconosce le varie componenti delle frasi. Quello che comprende sono i lemma, che i lemma sono un modo particolare per riunire le parti del discorso e soprattutto per il finale il nostro sentiment. Ok? Quando noi chiamiamo compute sentiment non faccio altro che estrarre il sentiment facendolo passare sostanzialmente per la pipeline. Vedete? Pipeline.process questo è un puro map e contro map della struttura dati in maniera da averla come una struttura dati semplice. Semplicissima, una lista di stringhe interi. In cui applico una normalizzazione perché? Perché la libreria che ho usato usa una notazione un po' particolare sempre per essere buoni che è zero se neutro è minore di due se è negativa insomma volevo ricondurmi a un caso in cui uno fosse positivo meno uno fosse negativo e zero fosse neutro. non vi avevo ancora parlato del neutro perché taggare una frase come neutra? Beh perché ci sono un sacco di risposte neutre risposte tecniche sposta il file nella cartella oppure clicca con la voce del menu in un reddit gaming non sono risposte per forza né positive né negative sono neutre se io volessi forzare la polarizzazione sul positivo sul negativo di questo tipo di risposte creerei tantissimo tantissimi falsi positivi e a valle nel processo di machine learning tantissimo bias avete presente cos'è il bias nel sistema nell'allenamento del machine learning? Sostanzialmente è quel processo non voluto in cui dei falsi positivi nel sistema di allenamento possono ripercuotersi in falsi positivi nella nella predizione ok e quindi la nostra il nostro nostro output sarà più uno per il positivo meno uno per il negativo e zero per il neutro quindi questo era l'interfacciamento con la nostra la nostra libreria di analisi del linguaggio naturale ok allora facciamo un minimo di formatazione sul body dell'elemento eliminando le andate a capo non molto elegante mi rendo conto come codice ma non me ne vorrete ok e visto che è un file csv e il json invece ha un encoding un po' diverso per esempio in una stringa la stringa json può andare a capo eccetera eccetera nel csv no diamogli una pulita con una libreria fatta apposta anche qui prendetela come magia nera non è niente di particolarmente romantico interessante è giusto perché quando andremo a vedere il risultato lo si possa vedere in maniera decente e graficamente apprezzabile ok abbiamo trasformato quindi il json in una struttura dati la struttura dati l'abbiamo usata per calcolare il sentiment e l'abbiamo incapsulata in una semplicissima lista di valori la semplicissima lista di valori è un attimo trasformarla nella riga del nostro file csv con un altro map ok quindi abbiamo la nostra lista di valori che voglio trasformare in una stringa separata da virgole e con una bella andata a capo finale a questo punto cosa abbiamo creato un meraviglioso motore immobile perché un altro dei caposaldi dell'analisi dei dati su grandi volumi è cercare di essere il più lesi possibile cioè cercare di ritardare le elaborazioni il più a lungo possibile lo rivedremo tra qualche minuto in questo caso se noi facessimo girare adesso il codice non verrebbe fatto niente perché perché tutte le strutture dati che abbiamo utilizzato in scala in questo caso sono lezzi nel momento in cui io gli ho detto source from file cioè leggi dal file lui non ha iniziato a leggere tutto il file nel momento in cui gli ho detto guarda le linee non ha iniziato a leggere tutte le linee infatti se vedete se riesco ok non si vede benissimo direi però quel pop up piccolino c'è scritto iterator string ok è un iterator cioè una struttura dati che genera i dati man mano glieli chiediamo quindi dobbiamo trovare il modo per attivare il nostro motore immobile e questo lo facciamo dicendogli che per ogni elemento ok vogliamo avevo inizializzato questo oggetto writer verso il file per ogni elemento vogliamo che lo scriva anche for each è una come si dice è una funzione di ordine superiore quindi prende una funzione come altro argomento e passerà tutti i singoli elementi che sono stati la riga che è stata letta dal file che è stata decodificata filtrata misurata nel suo sentimento e ricodificata in un in un csv effettivamente al file e quando avrà finito di leggere il file ci ci scriverà ho commesso un errore perché il sentiment file è quello che voglio leggere cioè è quello che voglio scrivere mentre quello che voglio leggere è il il dump di di reddit ok quindi leggo il dump di reddit e scrivo il sentiment file vediamo se funziona ok quindi immaginate bene che stiamo iniziando a leggere riga per riga un file un file di 40 giga e ovviamente non ci sarà il tempo di farlo passare tutto perché in varie riprese mi è costato diverse decine di ore di computazione però vediamo che cosa che cosa esce anche perché il il sunto iniziale di tutto quanto è che il sentiment analysis fatta con le tecniche di linguaggio di analisi di linguaggio naturale è piuttosto lenta ok seguiamo il file ok vedete quanto quanto poco ha analizzato per ora e si vede che il prossimo elemento ha un body molto lungo e ci sta mettendo tantissimo comunque la cosa interessante può essere che prendiamo questo ecco questa è la valutazione di un di una cosa di sport immagino e ha una connotazione neutra questo gli ha dato una connotazione negativa meno uno ok a secondo del del contenuto del post ho subreddit autore e body e connotazione ok a questo punto mi avvalgo delle tecniche che vengono utilizzate nei programmi di cucina e utilizzerò un file che ho prodotto precedentemente ok se qualcuno ha 60 ore di barzellette da raccontare ok per per utilizzare un sistema che di analisi big data cosiddetto che si chiama spark spark è un un server che permette di analizzare grandi quantità di dati ha avuto una grande fortuna nel mondo del big data perché è estremamente performante ed è estremamente performante perché può ragionare in maniera distribuita ok io ho fatto partire il server spark queste sono le prove che ho fatto questa mattina vedete che spark ha un nodo master che è questo e in questo momento un nodo slave se ne possono aggiungere quanti se ne vuole e che come funziona sostanzialmente noi lanciamo un'elaborazione questa elaborazione viene passata al master che la suddivide negli slave quando tutti gli slave hanno finito il loro quanto di elaborazione suddivide i dati in input tra tutti gli slave quando hanno finito la ripassano al master che l'aggrega e ritorna la risposta al chiamante due piccoli disclaimer la prima è che probabilmente non è il modo migliore per approcciare l'analisi dei dati scrivendo direttamente il codice scala come farò adesso però era il modo più comodo per mostrarvelo fondamentalmente cioè sostanzialmente vi mostrerò esattamente come si crea il software che poi si va a usare più che come si prototipa il software la seconda è che essendoci dei server che girano potrebbe non funzionare nulla con il classico effetto demo però cercheremo di farvi vedere tutto allora quindi vediamo di allenare il nostro modello per per predire ok il sentimento del testo che modello useremo un cosiddetto naive byesian allora anche qui minuscola consentitemi una minuscola digressione in ambito machine learning come si sceglie il modello di machine learning beh prima di tutto bisognerebbe essere dei data scientist ok cosa che qui presente non è come mai ho scelto il naive byesian beh ho cercato il suo stack overflow ovviamente no fondamentalmente esiste un percorso con cui è possibile scegliere qual è il miglior algoritmo a seconda della situazione in cui si trova noi qui dovevamo inizialmente pensavo dovevo decidere se è positivo o negativo ok quindi poteva andare bene un modello tipo logistic regression cioè si o no poi invece studiando meglio la cosa effettivamente volevo introdurre anche l'elemento neutro e quindi non si adattava perfettamente allora guardando ho visto che ci sono molti casi in cui è stato usato appunto il naive byesian per l'analisi sul testo perché perché fondamentalmente il naive byesian non si occupa altro che di fare grandi conti grandi somme basandole su una una funzione e a seconda di dove si basano i risultati di queste computazioni rispetto alla funzione campione decide dove mettere la feature e quindi come allenare il modello per farla molto breve il naive byesian si adatta bene nel momento in cui la sorgente dei dati non è certa ok molti molti algoritmi tendono a fare quello che si dice l'overfitting cioè se gli do dei dati che sono estremamente destrutturati iniziano a creare una curva invece di avere una curva di riferimento iniziano loro a creare una curva che si adatterà esattamente al caso campione che gli ho dato ma si adatta talmente bene che escono dalla curva che invece veramente rappresenta il campione quello che voglio fare è prima di tutto leggere il mio file csv quindi definiamo una funzione load che prenda uno spark context che cos'è lo spark context non è altro che la connessione e tutta la configurazione di cui ho bisogno per collegarmi a spark e ovviamente il path che cosa mi restituirà mi restituirà un data frame cos'è un data frame è un handler ok dove spark può agganciarsi per caricare i dati allora come prima cosa creiamo un sequel context e già vedo delle facce sconsolate che dicono come come sequel no fermi tutti non è per niente cool sequel no allora sequel il sequel inteso di spark è un po' click byte per attirare diciamo così coloro che magari hanno delle conoscenze più lato dati che lato programmazione funzionale eccetera in pratica permette mette a disposizione delle strutture dati matriciali e delle funzioni simile sequel sopra strutture invece che sono distribuite eccetera eccetera quindi come crearlo è super noioso e quindi faremo ricorso a un metodo utility che mi genera il sequel context se avete se volete invece vederla dal punto di vista proprio di una persona abituata a lavorare con connessioni database sql lo spark context è la connection e il sequel context è un prepare settlement cioè mi permette di eseguire tante cose in questo caso vogliamo caricare i post quindi il sequel context vogliamo leggere ok vogliamo leggere che cosa qualcosa in un formato csv allora per leggere il formato csv usiamo un codec anche qui è un un codec che legge csv e dopodiché diciamo che abbiamo delle varie opzioni che non ho leader perché non l'abbiamo creato prima poi che ecco questo è molto bello di capire da solo come è fatto lo schema dei file poi dobbiamo dirgli come l'abbiamo creato ok cioè che abbiamo escapato con le virgolette e ok dopodiché diciamo che di caricare il nostro path ok a questo punto non facciamo altro che dirgli di trasformare questo reader in effettivamente è un data frame a cui passeremo l'intestazione delle varie colonne quindi subreddit author body e polarity ok allora dobbiamo allenare il modello quindi alleniamo il modello sempre avremo bisogno dello spark context che è quello è il filo praticamente che tiene insieme l'elaborazione sui nodi del cluster e poi gli passiamo anche una lista di cosiddette stop words che sono parole le parole comuni si no and tutto questo lavoro sono in inglese pardon mi ero dimenticato che è un broadcast cosa è un broadcast è di nuovo un wrapper che mi permette di prima dell'elaborazione lanciare dei dati su tutto il cluster in maniera tale che nel momento in cui arriva un'elaborazione sono già presenti una lista di string ovviamente allora prima di tutto carichiamo i post dopo di che per ogni post allora il nostro Naive Bayesian vuole una serie di punti con etichette quindi punti con etichette per creare i nostri punti con etichette non facciamo altro che far passare i post ok selezioniamo soltanto quello che ci interessa la polarità e il body da questo creiamo una struttura dati RDD che vuol dire resilient distributed data come il broadcast una struttura dati adatta a essere mandata sul cluster ok questa la dobbiamo filtrare ancora perché ci interessano soltanto quelli che possono essere ricondotti al caso in cui ho una riga fatta da una polarità di tipo intero ok e un un body di tipo stringa si no questo è il nome della variabile sono in super ritardo mi dicono ok allora a questo punto estraiamo le parole dal body ok quindi dal body le stop words ok e a questo punto creiamo il nostro lablet point ok in cui associo la polarità alle feature e come faccio quali sono le mie feature non sono altro che le parole stesse ok cioè guarda che quando ti trovi queste parole la polarità è questa c'è qualcosa che non va ah trasforma feature ok a questo punto abbiamo un my by vision già finito ok è veramente così semplice ovviamente il modello dopo lo voglio salvare sempre lo spark context da andare e ovviamente un path ok invochiamo il metodo train e vediamo allora adesso che cosa sta facendo sto facendo altro che compilare il il mio codice che ho scritto in questo momento lo impacchetto in un file jar che è uno zip con dentro le classi compilate lo invia al nodo spark che quando lo riceverà sostanzialmente inizia l'esecuzione il nodo spark l'ho configurato qui sopra allora adesso se vediamo qua vedete che vedete che c'è una running application ok questa è la console che mi permette di vedere quali sono le running application che cosa stanno facendo il modello diminuito dovrebbe metterci poco ad allenarsi e infatti adesso il nuovo modello è allenato tutti i file sono stati salvati su file system ed ora in poi che cosa possiamo fare beh possiamo avere nel nostro analizzatore semplicemente un modello allenato ok una funzione che prende come parametro un modello allenato e predire ok giusto devo trasformarlo in un e togliergli le stop words quindi text e stop words ok cioè la differenza tra un modello predittivo un modello predittivo e un modello fatto su la natural language analysis è che questo è quello fatto e mentre invece il modello predittivo prende questo spazio perché perché tutta la complessità l'abbiamo spostata nel modello a machine learning su spark ok a questo punto però voi potreste dirmi beh però così è troppo semplice vediamo se funziona davvero allora siccome ho terminato il tempo fatemi stasciare questo ok validiamo l'accuratezza del modello ok validiamo l'accuratezza del modello intanto che gira vediamo cosa vuol dire valutare l'accuratezza del modello praticamente io rifaccio la stessa cosa di prima carico il mio modello in il modello allenato faccio passare nuovamente i post e metto insieme la polarità originale con la polarità calcolata dal modello dopodiché ne carico ne calcolo quale percentuale è cioè in quale percentuale le due polarità sono uguali quanto va d'accordo il modello algoritmico con l'altro e lo scriviamo in accuracy vediamo se ho configurato correttamente potenti mezzi ok vediamo se si vede lo incollo qua sopra ok direi abbastanza bene dai fatto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.